con una squadra di pompieri italiani che si trovano in Slovacchia, sono andati a aiutare i loro colleghi ucraini. Con chi sto parlando? Cristian Cianfarini, capo missione dei Vigili del Fuoco. Benvenuto. Buongiorno, sono l'Ingenere Cristian Cianfarini, capo missione delle operazioni Vigili del Fuoco qui in Slovacchia. Come diceva lei, noi abbiamo iniziato queste operazioni per ovviamente provvedere alla donazione di 45 mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, che appunto il Corpo Nazionale ha provveduto all'interno del meccanismo europeo di protezione civile, ha provveduto a donare appositamente per l'emergenza in Ucraina. Qualche parola su come sono svolte le operazioni. Questi 45 mezzi provengono tutti quanti da diversi comandi dislocati sul territorio nazionale, quindi questi mezzi sono stati raggruppati in quattro punti specifici di carico, che posso elencare, erano Bari, Torino, Bologna e Palmanova. Dopodiché questi mezzi sono stati caricati su carri ferroviari e su questo le operazioni sono state quadruvate dalla società Merce Italia Rail e sono state poi inviati all'interporto qui di Belcaida. Il carro ferroviario è arrivato quando è arrivato il team Vigili del Fuoco, quindi è partito il 29 aprile dall'Italia ed è arrivato il 3 maggio qui all'interporto di Belcaida, quando è arrivato il team di Vigili del Fuoco composto da 15 Vigili del Fuoco compreso il sottoscritto. Le operazioni di scarico sono iniziate il giorno dopo, quindi il 4 maggio dalla mattina sono state operazioni importanti, siamo stati quadruvati in modo importante anche dall'autorità slovacche, anche dal corpo dei Vigili del Fuoco della Slovacchia e si sono state portate avanti in modo corretto e si sono concluse nella giornata di ieri sera. Stamattina ci siamo incontrati qui con i colleghi dei Vigili del Fuoco dell'Ucraina che sono arrivati, sono giunti qui in sito questa mattina alle 7 di mattina e con loro abbiamo proceduto a fare una conoscenza, anche una verifica dei mezzi presenti e successivamente c'è stato un momento molto importante che è stato un momento di training, di formazione che i nostri Vigili del Fuoco, che sono istruttori qualificati, hanno proceduto ad effettuare. Poi nello specifico avete portato materiali, quindi training e poi di cosa avevano bisogno i colleghi? Sì, appunto, poi vi mostrerò qualcosa, i colleghi avevano bisogno, come detto, ovviamente di mezzi di soccorso. Su questi mezzi di soccorso, poi non so se riusciamo a far vedere, sono stati caricati, sono le attestature. Mi dispiace che sono collegato con l'auricolare, quindi abbiamo poca libertà di movimento. Sui mezzi di soccorso sono presenti ovviamente tutte quelle attrezzature di cui i Vigili del Fuoco hanno ovviamente bisogno per fronteggiare tutte le varie operazioni che possono avere, perché i Vigili del Fuoco non fanno ovviamente soltanto incendi, ma forse gli incendi raggiungono immediatamente il 30-40% delle operazioni, tutto il resto sono operazioni di soccorso tecnico urgente, le più disparate. Quindi abbiamo ovviamente attrezzature di spegnimento, come manichetto ovviamente lancio, attrezzature da taglio. Abbiamo provveduto, su alcuni mezzi sono stati caricati anche con DP, quindi dispositivi di protezione individuale. Quindi mi riferisco magari a divise, queste sono divise certificate, a stivali, a guarni. Insomma tutto materiale in ottimo stato. Sì, assolutamente. Esatto, il massimo. Anche ovviamente di DP, di dispositivi di protezione individuale, come dicevo, sono ovviamente materiali nuovi, perché ovviamente sono cose che vanno indossate. Allora io la ringrazio Cristian Cianfarini, ringrazio tutta la squadra, tutto il vostro, lo dica, i ragazzi e i meno ragazzi che hanno fatto questo fantastico lavoro. Grazie, grazie per essere stato con noi.